Acco e Wonderful sono le varietà di melograno coltivate oggi ad Alcamo e che, grazie allo spirito imprenditoriale di un piccolo gruppo di agricoltori che circa nove anni fa sperimentarono con i primi esemplari di questa cultivar, godono di una più che dignitosa presenza sul mercato nazionale. Tra i primi alberelli piantati sul suolo alcamese ci sono quelli delle contrade poveri e greco, oltre mille piante bio distribuite su 25 mila metri quadrati di terreno per oltre 129 quintali di prodotto a stagione che rendono al territorio alcamese circa 1,50 euro per un chilo di frutta fresca o 7 euro al litro per il prelibatissimo succo di melograno imbottigliato. Io ho cominciato la mia avventura nel campo del melograno a maggio del 2011, allora quando un amico mio agronomo di Marsala che era stato in Israele gli avevano suggerito l'introduzione a campo grande della coltivazione del melograno. Una dozzina di agricoltori dopo quell'anno hanno voluto rischiare come ho rischiato io e anche loro si sono avventurati a coltivare il melograno. Difatti adesso ad Alcamo siamo una dozzina quelli che lo coltiviamo. Non tutti gli alcamesi sono al corrente del fatto che il melograno originario del 34esimo parallelo è ormai un prodotto a tutti gli effetti autoctono e alcamese par excellence e che quindi un suo maggiore consumo favorirebbe non solo la salute ma anche l'economia e le aziende locali. Adesso è ancora stretta la percentuale dei consumatori ad Alcamo e dintorni, mentre è maggiore più si sale al nord, che sono dalle parti di Milano o anche nella stessa Germania oppure nei Paesi Bassi, dove la cultura è più avanti e quindi sapendo il benessere che ne deriva dal consumo sia del frutto sia anche del succo, che è anticancerogeno, antinfiammatorio, antinfarto perché favorisce la circolazione del sangue nelle arterie e nelle vene e fa abbassare anche il colesterolo per non parlare poi del fatto che anche i glicemici lo possono consumare. Il microclima che c'è nei territori alcamesi, con questo potassio presente in quantità maggiore rispetto ai terreni israeliani, gli consentono di avere maggiore dolcezza e maggiore colore. Di fatto se voi vedete le noce melegrane sono rossissime, ma sono rossissime. Versatilità è una delle prerogative di questo frutto, anche se la stagione del raccolto è quella compresa tra settembre e novembre, il succo che può essere ricavato in casa anche con mezzi casalinghi e posto in congelatore può essere gustato per tutto l'anno. Sì, conosco un metodo molto semplice, anziché prendere la forchetta e stare lì a sgranellare, sporcandosi e non arrivando prima di un'ora a liberare gli arille di una melagrana, bisogna prendere la balavusta, tagliarla a metà in senso orizzontale, poi prendere la prima metà che si è ottenuta, prendere un mestolo e battere sopra la buccia in modo che gli arille si staccano di sotto. È semplicissimo, così poi uno col cucchiaio li può raccogliere e mangiare. Una volta liberati gli arille sia dalla balavusta sia dalla cica, la membrana interna è amara, quindi bisogna liberarli da questa cica, uno se non ha una macchina spremi melegrane professionale, anche se è domestica, si può fare con la sarsera, il classico gira, da cui si cava poi il passato di pomodoro. Quindi uno ha ottenuto gli arille, li mette nella sarsera, gira e sotto esce la prelebattezza del succo. Quando abbiamo finito la spremitura, sorge il problema della conservazione, ma è semplicissimo, basta abbattere nell'arco di poche ore alla temperatura di 18 gradi sotto zero e il succo di melograno conserva la fragranza nel momento in cui tu lo vai a scongelare e come se fosse stato spremuto un'ora prima. Grazie all'ingegno ed edizione di questi imprenditori, la città di Alcamo, dove il melograno all'inizio era presente a sprazzi con pochi e non molto pregiati esemplari di dente di cavallo, selinuntina e primo sole, con la scorza verdognola e gli arilli di un rosa un po' sbiadito, oggi vanta una delle più raggianti eccellenze rosso rubino di tutto il Mediterraneo.